Al via Arezzo i campionati studenteschi, giochi sportivi scolastici che coinvolgono nel 2017 le 54 scuole e i 36 comuni aretini. È il terzo anno che Estra sponsorizza i campionati studenteschi di Arezzo, investendo sul rilancio della manifestazione. Estra è impegnatissima nello sport, è uno dei momenti principali dell'alleanza con la scuola, di una grande impresa del territorio che continuiamo a sostenere in questo settore. I campionati studenteschi abbiamo contribuito a rafforzarli. È in aste di partenza oltre 13.000 studenti, 400 in più rispetto al 2016, che ci cimenteranno in 200 gare, con 200 insegnanti coinvolti nell'organizzazione. Da anni lavoriamo come ufficio educazione fisica, con tutti i miei colleghi sono oltre 200, e abbiamo il 100% delle scuole partecipanti, quindi sono il cuore dell'attività motoria per tutte le scuole. 29 le discipline in programma, da quelle più diffuse e praticate a sport meno convenzionali, tra cui l'arrampicata e la danza sportiva, il tamburello e la palla pugno.